Il gruppo del filo condiviso di Rolo, nato nel 2019 dall'esigenza di alcune signore di ritrovarsi per condividere l'esperienza di lavorare a maglia, l'uncinetto e di ricamare, ha risposto positivamente all'invito del gruppo Primavera di Fabrico di partecipare all'infiorata. Dentro al progetto Io, Tu, Noi, Voi, la comunità, la ricerca della bellezza, le signore Rolesi si sono organizzati per produrre pannelli dalle grandi dimensioni dove hanno riprodotto fiori con la tecnica del ricamo. Macro punti, che di solito vengono utilizzati in delicate lenzuola e asciugamani, sono invece stati trasformati sull'aiuta. Questi pannelli fanno parte del grande progetto dell'infiorata, dove tutte e tante signore di fabbrico vi hanno partecipato. Con questa arte, l'arte di sapere riprodurre quadri d'autore, l'arte di vedere la dissacrazione del ricamo fine e macro punti, arte dello stare insieme per un unico obiettivo, arte di socializzare, arte di ascoltare, arte di mettersi in gioco, arte di eliminare rivalità arcaiche e poco costruttive.